mia cara conosco la tua pena ma non disperare se piuttosto di sposare un uomo che non ami hai la volontà di ucciderti è probabile che tu voglia intraprendere un'azione che affronta la morte stessa per evitarla se hai il coraggio io ti darò il rimedio vai vai a casa si lieta e accetta di sposarti domani notte vedi di coricarti sola non lasciare che la notrice dorma con te in camera io ti darò una fiala quando sarai a letto bevi nell'essenza di un sorso subito per le tue vene scorrerà un freddo e soporifico umore il polso ceserà il suo battito nessun calore nessun respiro testimonierà che tu vivi le tue labbra e le tue guance sfioriranno le palpebre ti scenderanno sugli occhi le membra dure ritide e fredde appariranno simili alla morte in tale vuota apparenza di morte resterai 42 ore poi ti sveglierai come da un sonno piacevole quando verrà lo sposo al mattino per farti alzare sarai la morta allora come tradizione verrai portata nell'antica cripta in cui giaciano i tuoi antenati io intanto prima che ti risvegli con una lettera avvertirò del nostro piano romeo che verrà qui e io e lui veglieremo il tuo risveglio quella notte stessa lui ti porterà via da qui ora vai vai bisogna far presto sii forte e serena in questa decisione